Questo è il Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Produzione. In questo laboratorio ci si occupa fondamentalmente di ricerca sui processi di lavorazione, sulla qualità dei prodotti e sui sistemi di produzione. L'attività principale è lo studio e la caratterizzazione di processi dei quali i sistemi waterjet, i sistemi laser, i sistemi plasma ad alta definizione, i sistemi di lavorazione ad ultrasuoni. Sistemi di produzione tipicamente non convenzionali con i quali si possono realizzare tagli, saldature, rivestimenti di materiali utili a diversi settori quali il settore meccanico, aeronautico e automotive in genere. Con applicazione anche in settori medicali. Un esempio di attività nel settore medicali è la lavorazione, mediante macchine tradizionali e laser, di stente in magnesio da inserire nel sistema cardiocircolatorio dell'uomo. Altre attività riguardano la qualifica, la caratterizzazione della produzione, quindi il controllo della produzione, il controllo del prodotto. Abbiamo un laboratorio con buone caratteristiche ambientali e all'interno del sistema qualità politecnico, quindi certificato anche estremamente come sistema qualità ISO 9000, per la caratterizzazione geometrica di componenti meccanici. Abbiamo poi un'area laboratorio che si occupa della progettazione, configurazione, analisi delle prestazioni dei sistemi di produzione, che ha grandi collaborazioni nel settore industriale di vario tipo. Un esempio recente è la collaborazione con Comao, un noto costruttore di sistemi di produzione del settore automotive.